ecco, abbiamo visto la volta scorsa come fare un panorama geometrico partendo da un piano e poi costruendoci sopra degli oggetti abbastanza basilari, però usando un modificatore array che li ripeteva in maniera abbastanza precisa e a questo punto, in questo video, vedremo come fare una displacement map per fare la displacement map la cosa più semplice è quella di prendere il piano di partenza duplicarlo, quindi facciamo shift D, Z, ce lo tiriamo in alto e vogliamo fotografare, praticamente usiamo questo piano come una specie di lastra fotografica per fotografare quello che sta sotto per farlo occorre però prima di tutto avere l'UV map corrispondente di questo piano quindi bisogna, avendo selezionato il piano, si va nella UV image editor che è quello, vedete che adesso c'è ancora la foto di prima e poi qui facciamo, andiamo in edit mode, quindi tab e poi facciamo l'unwrap, modalità reset la modalità reset, l'unwrap ce lo fa vedere praticamente tutta la faccia è mappata su tutto lo schermo quindi, una volta che siamo in questa modalità andiamo a creare un'immagine quindi facciamo creiamo un'immagine su cui fare la nostra foto togliamo però l'alfa che non ci interessa teniamo 1024x1024 e chiamiamola displacement e vediamo un po' cosa succede ok, vedete che adesso effettivamente si vede l'UV map su questa immagine che peraltro è tutta nera quindi abbiamo fatto, diciamo, la preparazione abbiamo creato semplicemente l'UV map di base è un po' più facile di quello che sembrerebbe in realtà è fare questo mestiere perché noi cosa facciamo? dobbiamo selezionare tutto quindi adesso andiamo in object mode selezioniamo con la tecnica del bordo selezioniamo tutti gli oggetti che stanno sotto ecco, vedete che abbiamo selezionato le parti di sotto e poi ci accertiamo che il nostro oggetto ecco, che nella selezione sia arancione vedete solo l'ultimo oggetto selezionato che vuol dire che praticamente noi se lo guardiamo qua vedete che sono tutti selezionati e in particolare vedete che il più importante è il piano 00 questo qui è il piano, la copia che sta sopra perché è importante questo? perché adesso noi andremo a proiettare tutti gli oggetti rossi sull'ultimo oggetto selezionato che è questo quindi se per caso non avete questa situazione ma ad esempio vi viene arancione questo quindi l'ultimo oggetto selezionato è quello è sufficiente che con lo shift deselezionate questo oggetto in realtà deve vederlo bello arancione questo perché tutti gli oggetti diciamo aranci scuri si proietteranno sull'oggetto arancio chiaro allora per fare la nostra stampa facciamo proprio una diapositiva andiamo sulla macchina fotografica e prendiamo semplicemente il bake bake è un po' quello che fa la foto e a questo punto prendiamo la foto ma di cosa? prendiamo la foto che ci interessa il displacement quindi vogliamo fare un displacement map facciamo displacement e attenzione usiamo questa opzione qua che dice che fa la foto dello shading, dell'ombra, della superficie degli oggetti selezionati sull'oggetto attivo quindi gli oggetti selezionati sono quelli e l'oggetto attivo è quello qui dobbiamo selezionare questo dopodichè si fa il bake l'immagine dovrebbe comparire qua ho notato che per farlo comparire bisogna ancora metterlo normalized normalized è un'opzione vedi che normalizza la distanza e quindi permette di vedere l'oggetto se non c'è normalized il baking lo vediamo non produce diciamo niente di sostanziale invece usando il normalizing vedete che abbiamo la foto che è un po' simile a quella che abbiamo visto prima tipo la schermografia insomma i raggi X della nostra scena e quindi questo è tutto per quanto riguarda la nostra cosa allora questa immagine qua fate soltanto attenzione la dovete salvare la salvate come immagine e la mettete in un posto in cui la potete rintracciare più tardi quindi displacement image quindi ci vediamo fra poco per vedere come possiamo usare la displacement image per costruire degli oggetti complicati grazie a tutti